Su 1977 aventi diritto al voto, 1.703 tra consiglieri e sindaci dei comuni della provincia di Salerno hanno votato per il rinnovo del consiglio provinciale. Una percentuale dell'86% distribuendo sei seggi al PD, due a Forza Italia, due a Campania Libera, due per più centro, mentre un seggio per Fratelli d'Italia, la provincia di tutti, Partito Socialista Italiano e Lega Salerno. I 16 consiglieri votati con il presidente Michele Estrianese guideranno per due anni la provincia di Salerno. Il primo eletto è stato il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, con 4.374 voti, come seconda eletta Pasqualina Memoli con 3.612 voti, a seguire Antonio Rescigno, 3.445, Luca Cerretani, 3.368, Vincenzo Servalli con 2.937 e Roberto Robustelli 2.868 voti. Forza Italia ha eletto Roberto Celano e Giuseppe Ruberto. Campania Libera Antonio Sagarese e Fausto De Nicola. Più centro per il territorio, per Strianese presidente, Felice Santoro e Fausto Vecchio. Fratelli d'Italia, Clelia Ferrara, la provincia di tutti, Dante Santoro, il Partito Socialista Giovanni Guzzo e la Lega Salerno, Ernesto Sica.